Benvenuti su MyFootballJersey. Oggi vi presento una maglia dell'NBA dei Milwaukee Bucks per la stagione 21 e 22, per il 75esimo anniversario dell'NBA. Ogni squadra NBA ha una playlist dei suoi grandi successi, una compilation di momenti iconici del passato che raccontano la storia definitiva della squadra. La maglia Milwaukee Bucks City Edition Swingman 2021-22 sfoggia una base bianca con strisce multicolore che rappresentano determinate epoche. Il mix ha inizio negli anni 70, quando la squadra vinse il primo campionato. Ci sono accenni a Green and Growing, epoca di fini anni 70-inizio anni 80, nonché la saga nobidante dei primi anni del 2000. La targhetta cucito in tessuto è stata aggiornata col 75esimo anniversario dell'NBA. La maglia presenta uno speciale design dello swoosh, ispirato ai diamanti e il logo NBA 75. Realizzata con 100% di poliestere, la tecnologia Nike Dry Fit allontana il sudore dalla pelle per un' evaporazione più rapida, aiutandoti a rimanere asciutto e comodo. Bella! Questa maglia, devo dire, è bellissima. Nella mia classifica prende 4 stelle, tra l'altro di uno dei miei giocatori preferiti dell'NBA. E devo dire, è fatta molto bene con le rifiniture al posto giusto, con i badge al posto giusto. E' veramente incredibile che costi solamente 26 dollari più spese di spedizione, così come la vedete. Mi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poterla acquistare. Peraltro, questa volta la spedizione è stata velocissima, quasi incredibile. E vi invito seriamente a provarla. Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,65 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media. Io sono alto 1,65 m e peso 70 kg.